L'onestà di mi nonna Trilussa Quando che nonna mia vi ho marito non fece mica come tante e tante che dopo un po' si Troveno l'amante. Lei in cinquant'anni non l'ha mai tradito. Dice che un giorno un vecchio un pricciuttito che gli voleva farlo spasimante gli disse va regalo sto brillante se venite a abbiavelo in un sito. Un'altra al posto suo come succede gli avrebbe detto subito so pronta ma nonna che era onesta non c'ha niente anzi gli disse statene lontano. Tanto che adesso quando la riconta ancora scese muzzica le mano.